That is amazing Ciao ragazzi ho deciso di fare questa clip perchè durante una mia diretta dedicata ai miei follower ci è capitato quasi in mente di incontrare un team di streamer anche molto riconosciuti che abbiamo battuto nei fight apriti cielo ed ecco che subito sono apparsi e mi hanno anche riportato dei messaggi di accoste di stream sniping tipo al minuto 7.06 di questo video questa cosa ovviamente non è veritiera ed è senza fondamento se no non sarei qui a mostrare questo video ma poi figuriamoci se durante il mio follower day e contro persone che conosco in quanto con alcuni ci gioco anche assieme uno mette in atto roba simile beh la migliore risposta a tutto ciò è la mia diretta dove ognuno può vedere con i propri occhi la trasparenza di me il giocatore quindi non cerchiamo sempre per forza esperiti maligni se no si contribuisce a rendere la comunità di code più tossica di quello che è io personalmente vorrei l'esatto contrario e poi diciamo che non è nemmeno il massimo ragazzino come me debba essere votore di questo messaggio anzi mi aspetto di più in modo positivo dagli adulti che soffriscono di questo gioco che altro aggiungere? più relax regà tanto in game posso dire una volta a me e una volta agli altri di essere chillati alla fine è pur sempre un gioco e tanto è che la partita in sé non è stata nemmeno vinta vi voglio bene i miei cari VIP bella regà buono controllate l'equipaggiamento gli aerei si stanno preparando allo schieramento appena spawno io comunque raga non me li dovete più in gara se no il mio car non si incaccia si ingripa tutto e poi vuole fare diciamo non posso 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 siamo samu gabribbono dice che sei una pippa e ti carriamo raga perché io lascio andare alla prossima inizio a lasciare i tag in chat allora signori dove vogliono andare indica un punto di lancio per il team siamo a terra qui cliccate un punto di lancio per il team qui dove è dove ci sta a ciaio è lì Stiamo azzerrate qui! Colpo di cena, ci andiamo a lamiere! No no no, venti di loro! No, Faraone! Faraone! Però Faraone! C'è Sio! Mi ho crascato! Ho mangiato Savi! Ho mangiato Savi! Mi hanno colpito! Mi hanno fatto spararmi addosso! Un compagno in centro nell'aria operativa! Mi sono fatta Faraone a Savi! Bella Savi! Sio nel kiddo ci sei fatto! Grazie! Grazie! Thank you! Mirko! Grazie per le 100! Santi! A terra! Mi hanno colpito! Marta! Ho visto 90! A terra! Mi hanno colpito! 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 Stunno! Stunno! Pusho! Morto qui sotto! Un altro ancora! Uno morto! Bello! Bumma! Mi dici qual è il motivo di lo Scream Sniper? Ma anche il Sniper Geredo! Perché lo dovresti Fumni Sniperà? Zoom Sniperà! Ci sono capitati una spessa lobby Ci siamo trovati allo Star- Self ultime molto più hard Sion! Kid! Savi! Kid Faraone! Signora si sono! Un altro maestro spinpsciolo! Sion mi sa! Sion mi è swamp! Sion è il mio! Sion, il mioji è casa mia! Io devo fareƠ liebolito a chi alle ultrapanze glieli�i! Sion rimas! Sono l'ora che l'ho cambiato a me Ho uno a faraone la... no, chi era kiddo l'ho craccata da... dallo spot No io ho fatto due più... io ho fatto il kid e si ho fatto due più b Anch'io Sassi se ho fatto il giro... mi sta... anch'io, 1v1 faccia a faccia con i sali Alla fine l'ho ritrovato davanti e l'ho dropshottato Bella comunque dai, bella, bella Questa niente? Una figata, beccate l'ora Ho marcato delle equipaggiamenti E' squalinato Savie Ti merita, d'oggi ti cerco, bella Andrea E' un po' il tempo, tempo che è E' un mitraglione, ciao E' arrivato il fare col pompa Correva il fareone, vero Matti? Si correva, correva Un grillo Per me doveva prendere il camion per divappare Invisibile col po' Eh, secondo me stavano... Se non c'è arrivato Questo Savie Questa Savie Questa Savie che torre Stiamoci da fare Siamoci No, no, no Non facciamo che tutti i team sono sali che qua ci moriamo subito po' Eh no, tutti i team sono sali E' come dei sali, i team di sali furtissimi Quindi bisogna ammazzarli Quindi un po' Non so, ma siamo in over, raga C'è una scena di coperta Oh, arriva una camionetta Sono sceso, mo' ridicolo Savie Ucra Savie No, dove cazzo l'ho messo Savie Sì Pizzato Quello è il team, raga Guido io Devo fare la mossa che guada Aspetta, aspetta, dov'hai fra Non sono dei bot, bro Vai, 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 vai Ancora Grazie Mirko per le 50 stelle Thank you Mirko A bestia Bella, bro Sovra di via Allora prendiamo rosso, bro Appena vedete una macchina ferma Si è fermata qua la macchina, guardate Riesco, vengo qua Qui c'è un veicolo Eccola la macchina, sono loro C'è una macchina con un vichingo, raga È il suo loro Cos'è? Che macchina è? Mi pucciano, raga, mi pucciano Che sono troppo Posso spararmi a posto? Piamo il camion, raga L'hanno presa quella macchina Stanno fettando, di nuovo Eh, è atterrata il camion, bro Atterrata il camion, bro In Facebook ho deciso di passare su Facebook Però di sicuro passere anche su Twitch, bro Se sopravvive può tornare in azione Attenzione, il vostro compagno è stato sconfitto Sta tornando alla base Qui sotto La cado, one shot La mano Si arrivano L'ho craccato Cecchini lì sopra Oh, Savi, di nuovo Oh, ma che cazzo è? C'è l'ho con Savi Gira un po' la testa Savi sta partita C'è una stazione di me Involta Sei calmo Mi spavano C'è un trenico in cecchina Si, 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 infatti Cassa di piastre Cassa di piastre Ma t'ha guarda in gatto Boh, ancora è morto Questa, resta, bro C'è uno sulle scale, raga C'è uno sulle scale, raga C'è uno sulle scale C'è uno sulle scale Salita 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 C'è uno sulle scale Raga Raga, dobbiamo tryhardare come matti e non ci dobbiamo allontanare tutti uniti Non lo prendi Io non lo prendo, ok, già ce l'ho Ci dobbiamo prendere un tetto di, di downtown Io non ci sono sempre che ho visto TTT, TTT, TTT TTT Sì, sono tutti streamer TTT, TTT Sion Asavi Dusil ma bravo è una lobby assurda tutti i streamer hanno detto che c'è un citer di lobby di nobe baba baba vedi che il mio caro incazzato ma non ci posso far nulla dov'è? se si incazza il mio caro è finito sopra il tetto, sopra il tetto qual'è il solito rossare uno? troppo dietro non vi conviene vettare il team pure dietro li ho craccati quattro volte ho avanzato troppo attaccato audio bro, audio bro devi bloccarli noi insomma ora ci dobbiamo bloccare sto team sono in tre loro sono, dove sono? io sono, dove sono? no loro mi rimane a rissare sono atterrati a vicenda non ti amere ci sono io mi sono cecchi da compro del resto bro, una fusciata dietro bro devi coprire la dietro fa nulla sono loro, baby ora ci dobbiamo bloccare ora ci dobbiamo bloccare ora ci dobbiamo bloccare ciao ciao ciao